Il Sottovia di Via Andria aprirà regolarmente entro gennaio 2024 e questa la comunicazione ufficiale di rete ferroviaria italiana al sindaco di Barletta Cosimo Cannito in relazione ad uno dei cantieri più discussi della città. Stando all'annuncio di RFI dopo le polemiche di novembre e dicembre, l'arteria stradale che interessa il centro cittadino e parte della zona industriale verrà aperta un mese prima che il cantiere compia cinque anni. Fondamentale in tal senso il lavoro che l'azienda dovrà compiere per accelerare il processo e garantire l'apertura entro i prossimi 40 giorni necessaria. La costruzione di un impianto di sollevamento delle acque meteoriche a carattere provvisorio componente indispensabile per omologare il percorso o quantomeno per un breve periodo iniziale un innesto logistico che permetterà di accorciare i tempi per l'apertura a cui però dovranno far seguito tutti gli altri adeguamenti strutturali per una regolare circolazione nel tempo e senza ulteriori chiusure. Resta confermato invece il termine di luglio 2024 per l'apertura dell'altro sotto via, quello di via Vittorio Veneto, che collegherà l'incrocio di via Andria e via Callano con i quartieri Patalini e Borgovilla. I residenti ormai provati da un cantiere aperto nel lontano febbraio 2019 chiedono velocità ed efficienza per tornare regolarmente alla vita sociale ed economica di Barletta.